Musica Oggi l'atteso confronto tra la Curva Sud e il Presidente Walter Taccone. Alle 17 presso la Sala e la Misericordia di Via Tagliamento ad Avellino, ci sarà il faccia a faccia che si spera possa essere risolutivo per il solo ed esclusivo bene dell'Avellino. Ma andiamo a ripercorrere le tappe che hanno inevitabilmente portato a questo confronto. Il 16 novembre il Presidente Walter Taccone nel corso e la conferenza stampa indetta per fare dei chiarimenti in merito alla questione societaria si dà così espresso. Io ho invitato tutti, anche la Curva Sud, spero che ci fossero qui, perché questi della Curva Sud devono mettere fuori la testa e devono parlare con me, perché scrivere comunicati strani o mettere strisciolze serve a niente. Questa è un'ulteriore spaccatura. Venissero da me e chiedono spiegazioni ed io cerco di darglielo, se riesco a darglielo. Allora venissero qui davanti a noi, siamo qui, tutti tutti presenti, mi dicono quali sono le loro osservazioni e io le rispondo. La Curva Sud, irretita per tali dichiarazioni, il giorno dopo indice anch'essa una conferenza nella quale senza peli sulla lingua risponde a Taccone e lo invita ad un confronto pubblico. Le parole del Dottor Taccone non ci sono andate proprio giù. Un aspetto negativo è che nel momento in cui tu fai una conferenza stampa e fai un monologo, chiedi, ironizzando, di far venire o far entrare i ragazzi della Curva alludendo e facendo capire che non sono venuti, non hanno accettato il confronto. Questa per noi si chiama istigazione alla violenza. Io al signor Taccone gli voglio far vedere tutte le facce della Curva e tutte le facce della gente che lo contesta. Per cui lo invito ad un incontro pubblico. Lui sarà a disposizione, visto che parla di faccia e di conseguenza suppongo abbia anche le palle per farlo, di metterci la faccia e di venire ad un incontro pubblico con giornalisti liberi di fare tutte le domande che vogliono e tifosi e ultras che vogliono fare tutte le domande. Lo aspetto, lo aspettiamo a braccio aperto. Su Prima TV, canale 90 e il digitale terrestre, sarà trasmesso integralmente il confronto di quest'oggi. L'evento, in diretta alle ore 17, potrà essere seguito anche in streaming sul sito www.primativ.it per permettere a tutti i supporters fuori regione di seguire l'evolversi del tanto atteso confronto.